Ci sono stati molti giusti all'epoca del genocidio degli armeni che hanno salvato, aiutato gli armeni o poi hanno testimoniato. La nostra ambizione è che vengano riconosciuti anche quei pochi ma esistiti giusti turchi che hanno salvato gli armeni all'epoca del genocidio nel 1915, questo sia per una questione di verità sia per arrivare anche a toccare un po' l'orgoglio nazionale della Turchia di oggi.